Non ce l'ha fatta un 86enne di Campobasso che era ricoverato in malattie infettive. Le vittime dall'inizio della pandemia salgono a 518. Nel reparto diretto dal dottore Santopoli un nuovo ricovero, paziente di Campobasso, e due dimissioni. I degenti al Cardarelli scendono a 22, di cui uno in reanimazione, 13 non vaccinati. Nell'ultimo bollettino dell'ASREM ci sono anche 577 positivi, 113 al molecolare, 444 ai test rapidi. 4.073 i test refertati, positività al 14,2%, ancora tanti guariti, 301 nelle ultime ore, e così molisani alle prese con il virus, sono 8.679.